Due omicidi in meno di un giorno e protagonista in entrambi i casi la strada. Stavolta è la Val Vibrata a farsi doppio palcoscenico di sangue, vendette, morte. La prima nella tarda serata di martedì ad Alba Adriatica, zona lungomare, cuore della movida notturna, soprattutto estiva, con l'albanese Farim Koldashi, che dopo una colluttazione sferra due fendenti che colpiscono Manuel Spinelli, 22 anni. Pochi secondi, probabilmente la recrudescenza di vecchi ruggini che coinvolgono l'attuale ragazza di Koldashi, ex di Spinelli. Chi lì è accanto, vedendolo accasciarsi, prova a trasportarlo in ospedale, caricandolo sull'auto, poco distante, mentre i testimoni hanno già avvisato il 118 e i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Da Giulianova parte un'ambulanza per soccorrere Spinelli, che però non ce la fa. Nel frattempo l'assassino è sparito, ma le forze dell'ordine ci mettono poco a rintracciarlo a qualche chilometro di distanza. A corropoli, con traumi al volto e non solo, conseguenze della colluttazione avuto a qualche ora prima. I carabinieri lo portano all'ospedale di Teramo, dove viene ricoverato in una camera di sicurezza, piantonato dagli agenti. Storia difficile da spiegare, quella di un ragazzo di 22 anni che lascia la sua vita sulla strada. Ancora più difficile quando a farlo è anche un oncologa. Nello stesso giorno, qualche ora dopo, nel pomeriggio di ieri, scena sempre una vibrata. L'ospedale di Santomero sono passate da poco le 15. L'ester Pasqualoni, 53 anni, ha appena terminato il suo turno di lavoro, quando il killer l'avvicina e con quattro colpi di roncola la gola e la nuca la uccide. Il medico resta senza vita per terra, con l'assassino che scappa, ma senza poter evitare che qualcuno, dalla finestra, veda la sua fuga, che racconterà le forze dell'ordine. Che iniziano a braccare un uomo, che da tempo la molestava e che Ester Pasqualoni aveva anche denunciato. Senza evidentemente però che accadesse nulla, raggiunta e freddata così, in strada, anzi, nel parcheggio, in un caldo pomeriggio di giugno, che adesso chiude il suo cerchio insanguinato, perché l'assassino di Ester, Enrico Di Luca, non ha resistito e si è tolto la vita. A Martinsicuro, a nord di una provincia, quella di Teramo, che adesso si riscopre fragile e incredibilmente pericolosa.